La paura che fa diventare il lupo più grande di quello che è Se rivedessi oggi per strada quei tre faramutti Grande e grosso come sono le farei con Sono Marco Scarati e nello spettacolo interpreterò Luca Vi aspettiamo Mi natavo in fondo che i miei fossero aperti Moderni Se vi è giusto Ecco Forse la verità di Pietro c'è stata rendermi conto di essere sempre Dissolutamente più che sia Sono Anna Giordano e sarò Laura in cioccolato bianco Vi aspettiamo il 18 novembre E se fossi stata più amata, più alta, più bella Con i capelli biondi Magari mi avrebbero cercato Amata, amata, adottata Ciao, io sono Giorgia Faraci e in cioccolato bianco interpreto Elena Le parole mi hanno iniziato a scuola e vennero a mia mente E mi rivedevo dal piccolo Quando camminavo nel popolo della scuola Per la stagia, per questi colpetti di ragazzi e pulletti Ciao, sono Simone Valentino e interpreterò Gabriele in cioccolato bianco Mi raccomando non mancate, ci vediamo al venerdì 18 novembre alle ore 21 Al piccolo teatro comico Ciao Da subito i miei genitori mi dissero che ero stata notata E questo ha causato un dualismo Per ciò che sono E ciò che sono stato Ciao a tutti, io sono Dinesha Di Francesco E in cioccolato bianco interpreterò Dinesha Oltre ad essere una delle attrici dello spettacolo Sono anche la regista e la scrittrice dei vari personaggi Vi aspettiamo il 18 novembre al piccolo teatro comico alle ore 21 Non mancate con Cioccolato bianco Ciao, ci vediamo il 18 novembre al piccolo teatro comico